a bordo e ha usato un telefono cellulare per chiamare la signora Mekley, la sua matrigna, per dirle del dirottamento. La comunicazione col cellulare è caduta alle 9.55. Le telefonate non sono state fatte con il cellulare. Peter Hanson, passeggero di United 175, ha contattato sua madre dal cellulare per dirle che l'aereo era stato dirottato. Il padre di Peter, Lee, ha poi detto di aver resistito alla tentazione di richiamare il figlio perché non voleva metterlo in un pericolo ancora maggiore facendo squillare il suo cellulare sull'aereo. Lauren Grancolas, che era sul volo United 93, aveva un telefono cellulare e si crede che lo abbia prestato ad un'altra passeggera, Honor Wainio, per fare una telefonata. Le telefonate non sono state fatte con il cellulare. Marion Britton era una passeggera sul volo 93. Il suo fidanzato e convivente ha ricevuto dalla Britton una chiamata dal cellulare durante il dirottamento. Britton ha detto a Fiumano, il suo fidanzato, di essersi fatta prestare il cellulare da un altro passeggero. Le telefonate non sono state fatte con il cellulare. La signora Elsa Strong ha ricevuto una chiamata dal cellulare da sua sorella, Linda Gronlund, che si trovava sul volo United 93. Adesso vi spiego perché, attivissimo, cerca a tutti i costi di negare o di tenere nascoste queste telefonate con il cellulare. Guardate. Secondo la documentazione del processo Massawi, Burnett ha fatto tre chiamate, una alle 9.30, una alle 9.37 e una alle 9.44. Come abbiamo già visto, almeno due di queste telefonate, se non tutte e tre, sono state fatte da Burnett col suo cellulare. Secondo i dati ufficiali dell'NTSB, alle 9.30 l'aereo era in salita verso i 10.000 metri. Alle 9.37 era intorno agli 11.000 metri e continuava a salire. Alle 9.44 era circa 6.700 metri di quota. Nessuna di queste telefonate può essere stata fatta con un cellulare dall'aereo in volo. Jeremy Glick ha chiamato la signora Makeley alle 9.37, il che significa che la comunicazione è durata circa 18 minuti. Durante l'intero periodo l'aereo è rimasto sempre al di sopra di una quota che permettessero a qualunque chiamata con un cellulare. Peter Hanson ha chiamato i genitori due volte, alle 8.52 e alle 9. Alle 9 l'aereo si trovava a oltre 5.000 metri di quota. Alle 8.52 si trovava ad oltre 10.000 metri e stava salendo. Honor Waigno ha fatto una chiamata ai suoi genitori alle 9.53, quando l'aereo era a circa 3.000 metri di quota. La chiamata della Britton a Fiumano è avvenuta alle 9.49, quando l'aereo si trovava ad oltre 4.000 metri. Linda Gronglund ha chiamato la sorella Elsa Strong alle 9.46, quando l'aereo si trovava a oltre i 5.000 metri. Quindi nessuna di queste telefonate con i cellulari poteva essere stata fatta in realtà dai due aerei in volo. Quindi Paolo Ottivissimo, prima di fare la predica agli altri che non fanno le loro ricerche a fondo, forse farebbe meglio spiegare al suo pubblico perché lui non ha mai parlato di questi documenti, che sicuramente conosce, anche perché sono tutti liberamente scaricabili da internet. Riassumendo, secondo Paolo Ottivissimo l'11 settembre è andata così. La buca di Shanksville è larga, una cinquantina di metri ed è profonda 15. Quindi lì dentro, volendo, ci stanno tre Boeing, non uno. Se li smonti bene ci stanno tutti e tre. E se per caso ti provi ad obiettare quello che dico, tu sei uno che offende i morti. Questo non dimenticarlo mai. I piloti che imparano a guidare gli aerei, li guidano come dei camion e quindi volano raso terra. L'edificio 7 è venuto giù all'indietro come un velo. La difesa aerea erano tutti lì come dei cucù a guardare fuori, mentre gli altri li mangiavano il ventre molle da dentro. Il transponder, ogni volta che perdi il segnale, i controllori di volo cominciano a correre su e giù come dei cricetti impazziti e comunque l'aereo non lo ritrovi più, almeno fino alla tarda dell'anno seguente non c'è niente da fare. Le telefonate dagli aerei non sono state fatte con i cellulari, le hanno fatte con gli earphone, questa l'abbiamo capita. E infine, ovviamente, se un grattacielo in acciaio prende fuoco, purtroppo viene giù. Scusate, ma così sono capace anch'io a sostenere che la versione ufficiale dell'11 settembre sta perfettamente in piedi. Se ti inventi una montagna di fregnacci come questa, persino biancanevi settenali puoi sostenere che sia un fatto di cronaca realmente accaduto, no? Quindi complimenti sinceri a Paolo Attivissimo, se continua così si guadagnerà sicuramente un posto in paradiso seduto alla destra di Piero Angela per il resto dell'eternità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.